Ripuccello Che bel fiuto che c'ha Chopper Ammazza Non ho capito C'è una banana che è uscita dalla sabbia Tiè Novantamila Gesù Non lo so se è adorabile Chopper sinceramente Space Gamers benvenuti a questo nuovo episodio del World True di One Piece Odyssey Allora ragazzi nello scorso episodio abbiamo mosso i primi passi ad alla basta Abbiamo visto anche che attività ci offre il gioco tra le taglie e le missioni secondarie Il pennuto che ci ha diciamo indicato la via giusta Credo Anche se la mia voglia di esplorare mi porterà a visitare anche le altre gallerie Una piccola novità della serie ragazzi Ne ho già accennato nella descrizione dello scorso video Ovvero i dialoghi ragazzi non li leggerò più Perché molte volte mi incarto Molte volte devo rileggere il dialogo Perché magari ho detto una parola sbagliata eccetera eccetera Quindi userò la stessa tecnica che ho usato con Soulaggers 2 Ovvero quando il doppiatore smette di parlare Andiamo avanti col dialogo Credo che così sia più fluido Il video sia anche più godibile Senza che con io che parlo insomma Ultima cosa ragazzi iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace al video se ovviamente è di vostro gradimento E in descrizione trovate tutti i link utili per seguire Playerspace Noi continuiamo alla basta Allora io me ne frego altamente del pennuto Me ne vado di qua Forse non dovevo farlo Ah ok mi riporta all'inizio Quindi Credo Del pennuto di nuovo Ah ok Torna indietro il pennuto Ma se Che la sua mano Bugia Eh è nero anche qui Riporterebbe all'inizio Niente Aspetta 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 Ok Ok vedete Qui non perdiamo Cioè non torniamo indietro Belli da qua Devo capire un po' meglio il fatto degli attributi ragazzi Perché Non è soltanto il potenza tecnica e velocità C'è anche una sorta di elemento in mezzo Devo capire bene questa roba Ma noi Li one shotiamo Vero? No in realtà no perché sono potenza E infatti Dovrebbe Shottare il nostro Zurune Non mi far male Non mi far male Porca miseria Oddio Zurune Bravo Zurune Aiuta Nami va Perfetto Il goat Qua possiamo mettere Robin Perché tanto il bersaglio è unico E Usopp Non ci piace Eh no volevo dire Bravo Usopp Complimenti Dai una bella strizzata di palle E si porta a casa A posto Sarei morto anch'io Oddio Mi ha proprio attaccato con gusto Non mi aspettavo un combattimento dietro l'altro sinceramente No Nami purtroppo non è che servia moltissimo in questo momento Siamo il sangione Ah Nami c'ha una missione Aia Ma questi danni da dove sono usciti What Forse Ho sottovalutato la cosa Non è che devo aumentare un po' di livello Ho anche sbagliato attacco Senza vedere Devo usare il Il bazooka Dai goat Ce lo vuoi fare 3000 mondi 3000 mondi Attacco più bello Di One Piece è questo Madonna mia Non mi attaccare tu Levanti Ciao Ok l'uccello mi dice a sinistra Ok perfetto Quindi se non avessimo fatto la missione secondaria Praticamente Dovevamo scegliere una strada ogni volta E tornare indietro ogni volta Eh si non ci sono strade Secondarie Per trovare oggetti No Dobbiamo seguire l'uscellino Indicaci Indicaci Davanti Davanti Io controllo sempre Comunque In caso non c'è una nebbia Possiamo entrare No Non possiamo entrare Andiamo Sinistra Sinistra Oh Vieni qua Affrontami L'ho attaccato da dietro Che imbecille Vedete che faccio bene a controllare sempre ovunque Thunderbolt Tempo Thunderbolt Tempo Vai Vi siete fatti surclassare dalle piante Dalle scene Vergognatevi Gatling Ora ha senso usarla Mamma mamma Perca vidano C'è un tizio morto Che succede? Stai bene? Il mio stomaco Oh ma tutti i affamati sono in sta cavolo di alabasta qua È svenuto in mezzo alla strada Non dirmi che è successo di nuovo Due mele energetiche Ok dai Ah ma è sempre lui Che Perché è qui? Aspetta mi hai fatto perdere l'uccello Penso che sia di qua Qui non c'è la nebbia Oh madonna Cattivissimo Pure alle spalle Allora sono velocità questi Quindi tecnicamente Dovremmo mettere Er capitano Er capitano Cambia zona Vai Er capitano Ottimo Non delude mai Er capitano Ora ci vuole Erzoro Va là Vai vice capitano Easy 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 Vediamo che ci dai Zuppa di pipistrello di bronzo Ma ho letto per un attimo Zuppa di pipistrello di Zoro Se è a caso Le uccelli Destra C'è un cancello là Mi scusi Cosa vuole lei? Da queste parti vive un simpatico granchio Ma oggi non lo vedo in giro Ho sentito dire che un cammello è scomparso nel nulla Poco più avanti Non sarà che Il solo pensiero mi riempie d'angoscia Questa porta qui Abilità insufficiente per tagliare Azzoro Ma hai deluso assai Meno male che abbiamo Oh Siamo arrivati Stavo dicendo Meno male che abbiamo Abbiamo Reclutato l'uccello Ripuccello Sono curioso adesso Se non avessimo fatto la missione secondaria L'uccello C'è come sarebbe venuta questa cutscene Una volta Molto interessante da capire Secondo me Ci avrebbe obbligato a fare la missione Allora Sono tecnica loro Quindi Mi spiace Erzoro Ma entra No aspetta Velocità Quindi Entra Eusop Vai Usop Non abbiamo nessun attacco Deb Debole però Vedete cosa dicevo Cioè Uso per velocità Lui è tecnica Io dovrei essere super efficace Però alcune volte C'è scritto anche Sulle abilità Debole Bisogna capire L'elemento Anche Sto fatto Sto fatto l'elemento Resiste Ecco 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 Che dicevo Resiste Secondo me Sarà bella tosta Qua Poesia Solo poesia Posso dire Thunderbolt Tempo Dovrebbe colpire entrambi Giusto Let's go Nami Let's go Oh Nami Si sta rivelando Veramente forte In realtà Cioè se C'è realmente più danni Strizza palle Resiste Ok Tià Ashkaff The Pig Madonna Robin Però Stella fiammeggiante Vai Li ammazzeremo L'epifania Dell'anno prossimo Piano piano Forse ci riusciamo Mi dispiace che abbiamo Solo chopper Come healer Potrebbe essere un problema Potrebbe essere un problema Vai Abbiamo pochissimi danni Veramente pochi 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 16 Porca miseria Devo ricaricare un po' i punti Facciamo un giro di attacchi normali No Robin però Aspetta Io cambierei Robin Sinceramente Va bene tutto però 61 danni A Robin Mi spiace ma Me stai a delude Oggi c'ho un po' È romano Vediamo un po' Come va la situazione Qui Vediamo Ammazzata che sono Tancosi assai questi Vabbè ragazzi L'andazzo è questo Quindi Acceleriamo un po' Ok Finalmente Nami Ha finito I punti 9 danni Che brutto Che brutto Vedere questi numeri È proprio brutto 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 Forse Forse Prossimo turno Uno lo uccidiamo Facciamo di nuovo La caccia alla tigre Mi è piaciuto E fa anche il 2.12 Non è male Ho paura che lo uccida Però ho paura anche che dopo Rufy non lo uccida Quindi Facciamo questo Madonna che culo raga Che culo Questo 4.88 Perché è crittato Facciamo anche doppio attacco What the fuck Ah infatti è tornata normale adesso Attacco ad aria Grido elettrico Sì Attenzione azzurro Posso non fare niente Uso un oggetto Vai Deve ucciderlo Rufy questo Ok perfetto Rufy Oh E' quando tocca a Rufy Mannaggia Non morire di veleno Ti prego Grazie 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 mille Ma ci faceva un danno Mi sparavo tipo Oh raga Uno l'abbiamo ucciso Ce la facciamo Siamo qua a mezz'ora Però Dopo un attacco di Zuro Voi mi direte Ma perché siete con due volte Ma io che ne so Fire Capitan A me era questo il B forse Io tutti e due li ho uccisi No sto scherzando E mi sa che era questo Questo è il B È il B È il B È il B Ho sbagliato target Raga Portaci miei Sì sì Grazie a tutti Grazie a tutti Per essere qui Io curo Deve toccare di nuovo a Rufy Ti prego Che bello E finiamola qua Missione fatta Bonus exp Tutti quanti a livello 50.000 Forza Quello 16 Wow Non me lo sarei mai aspettato Oddio Ah il crancho di cui ci parlava il tizio Sì infatti Cioè sta bene Ok Ok ora dovremmo poter esplorare A meno che la mappa non è già finita Voglio vedere un attimo Sì mi sa che è finita la mappa Nuova zona Ok non finisce qua l'esplorazione Pensavo fossimo già arrivati a Rainbase E invece Si gode Allora ragazzi Mi sto un attimo esplorando Gli accessori Potenziamenti Come potete vedere Noi abbiamo una griglia Qui dove c'è la figura del personaggio E Noi possiamo mettere queste figure qui Che ci occupano Un determinato spazio Spero che più avanti Potremmo ingrandirla Questa griglia Ci sono sia Queste Queste accessori Che occupano Un certo quantitativo Di spazio Quindi le possiamo mettere Anche più di una E poi ce ne sono Ci sono quelle grandi Che occupano Tutto lo spazio Ora Non ho idea di cosa servono Queste grandi Cioè forse sono solo un Ok non hai niente da mettere Metti questa È sempre qualcosa in più Perché Quelle più piccole Danno molti più buff Cioè per esempio Abbiamo questa Che dà due venti di attacco Che occupa Un quarto Dello spazio E poi abbiamo Quella grossa Che dà 87 Che è molto più basso Ed occupa Tutto lo spazio Quindi Non lo so Ne abbiamo Pochine ancora Quindi dobbiamo andare Abbastanza avanti Adesso ho potenziato Per capitano Ovviamente E agli altri Ho dato quelle grandi Giusto così Giusto per dare Qualcos'altro Oltre Che ho potenziato Che fai Che ho potenziato Certo Che fai Mi Mi Sono Lai Ma Ma Che Maggi A Eh So Mi Questa Lai Nein Certo 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 Na profit Certo No No Certo Grazie per la visione! Ci pensiamo noi Ok, possiamo già vedere in azione I nostri nuovi accessori Allora Un subpound Tutti e due deboli Cioè, anche questo è potenza No, aspetta, sì, è potenza Perché è debole? Io sono velocità Dovrei essere... dovrei fare metà dei danni Hai potenza Perché è debole? Questa cosa ancora non mi è molto chiara Infatti non è che abbiamo fatto Così tanti danni Ci sono in gioco Più modificatori Ehi, un HP è rimasto Che sfiga, mamma No, non sparare a Nami Vai Sono due A sto punto Dei costrutti Nami Nami, vendicati Chi è che ti ha sparato? Questo qua Un po' per kill Avrei potuto fare un attacco normale E Usopp non ha più punti E... Spariamo a questo Uh, lo ha spinto contro l'altro Bellissimo Sì, sì Lo sappiamo Dai Nami Ce la puoi fare Ehi, dai Un HP anche questo Ma sfiga proprio Il cazzottino Chissà perché Ma erano le nostre Sì Perché erano lì? Sì Sì Un po' per il Santo Bodobo ha detto Cos'è quella roba? Curiosità a mille Siamo pronti ragazzi Siamo pronti alla fatidica frase Siete pronti anche voi? Guardate Mannaggia A tutto ciò Che è bello Non lo so Non riesco Non volevo bestemmiare Ma non voglio nemmeno bestemmiare Ma sto tipo Che ci fai dentro la fosse Conoscete una città chiamata Yuba? La sabbia ha completamente coperto quelle oasi Ma un tizio di nome Toto Non si è reso e ha continuato a scavare in cerca di acqua Si è guadagnato tutto il mio rispetto Per questo stiamo cercando di riportare in vita il pozzo rimasto sepolto tre anni fa Aspettate e vedrete Questo pozzo non è ancora finito Post game? Così a caso? 10.000 berri Non male Perché sono qui loro? Sono quelli della locanda Vabbè Non facciamoci domande Tu sei quello dell'enciclopedia? Negozio di Yoisa Rotami luccicanti Vende accessori Molto interessante Un milione di berri Orca miseria Prendiamone Attacco Rufi Già ce l'ha Però un altro Ne lo mettiamo Rufi Sanji Zoro E chi ha? Beh in realtà Lo potrei mettere a tutti Però ne compro tre Per adesso Sono tirchio Punti vita Anche Prendere i tre Questo un milione di berri Raga Un milione di berri Tu sei Pazzo proprio Figlio mio Beh il deserto Si dovrebbero vedere le impronte Gio Gio Miss Piazza Vrata Ci abbiamo anche gli scorpioni Così a caso Perché aiutano i banditi Allora Tecnica Quindi Velocità Quindi Niente Dobbiamo per forza Combattere con Rufi Sanguinamento No Oh Thunderbolt Thunderbolt Nami MVP di questo episodio Assolutamente Mani bassissime Però non mori Nami Per favore Per favore Ti prego Bei danni No Attenzione 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 Curati Nami Curati da sola A posto Un HP Con un oggetto Eh Volivi eh Volivi uccidermi eh Ho visto Perché Ve lo spiegate Perché attacchi due volte Non vorrei che Ci fosse L'attacco Con il cambio D'aria Cioè tu fai un attacco Cambi d'aria E poi puoi riattaccare Non lo so Cioè L'unica cosa che mi viene in mente È questa al momento Tipo adesso Luffy può riattaccare Ma che cosa Ho capito Ho capito Ho capito Niente Ok Sistemati Ho capito Perciò che vengono le persone, ma comunque... Noi, qui non c'è anche il suo lavoro. Noi, tu... Il mio se è tutto problema. Non parli di qua, tu non vengono. Nessuno mi insegnava, non c'è... Sì, non c'è qualcosa di più che era da me! Non c'è nessun problema, lui! Ma non c'è nessuno che era da me... Non c'è nessun problema! Non c'è nessuno che aveva da riuscito. Certo, non c'è nessun problema. Che bel fiuto che c'ha Chopper Ammazza E' incazzatissimo Rufy Non toccate il cibo a Rufy Ok ragazzi ho scoperto un'altra cosa ancora Possiamo potenziare le abilità Con i cubi Giustamente E possiamo Forse anche No abilità esplorative No le abilità esplorative mi sa che non possiamo potenziarle Eh no O forse si lo potremmo fare Dopo forse Comunque i cubi che troviamo in giro servono a questo Servono a potenziare le abilità che sblocchiamo Quindi io direi di potenziare un po' di roba Ora non so se è il limite 5 cubi Oppure per adesso il limite 5 cubi Sono più propenso a pensare Che il limite adesso è 5 cubi Dopo aumenterà Comunque potenziamo Attacco ad aria di Zoro Il 3000 mondi Cioè il 3000 mondi è il 3000 mondi eh E anche il caccia alla tigre Facciamo così Mi faccio un bel giretto ragazzi Potenziamo un po' Un po' di roba Esplorare è utile per questo ragazzi Perché dobbiamo trovare i cubi Che poi ci daranno Ok là c'è un'altra salamandra I cubi che ci danno Che ci appunto potenziano le abilità Esplorare Direi che è abbastanza fondamentale Non ho capito C'è una banana Che è uscita dalla sabbia Ah è lui il capo Pezzo di vomito Salve C'è un po' di rinforzare C'è un po' di rinforzare Rumi sblocca un potere adesso È così incazzato Il maestro Chi è? Menchia Bello grosso Il cocco banana del deserto Ah era lui For Ah eh sì era lui Roar Allora in realtà ci sono Parecchi nemici ragazzi Porca miseria Vediamo se Zoro li spazza via questi Eh insomma Insomma Vabbè che sono a velocità Quindi Ok fanno pochi danni Ma almeno Dobbiamo sconfiggere il cocco banana là No Sanji non mi piace qua Perché non attacchi ad aria Quindi Nami Ora possiamo fare qualcosa di carino Tutti li prendo Tutti li prendo Massa Confermo Nami MVP in questo episodio Perfetto Perfetto Due andati Allora Ok Resista all'elastico Resista all'uso Bound Insomma Non serve a niente Uso Spazzali via Zoro Che servi tu dall'altra parte Uso Mi dispiace Ma Dai Anami Anami Che sto dicendo Nico Robin Eh non abbiamo punti con Nico Robin però Abbiamo uno schiaffetto Tiè Matta che schifo Che potevano andare gli attacchi normali adesso Questo mi è piaciuto Un sacco E adesso Possiamo passare al coccodrillo Cocco banana Scusate Trizza palle Resiste Madonna Robin Ti prego Quanto mi dispiace per Robin ragazzi Adesso è completamente inutile Robin Sei la mia best wife Però Attualmente Non serve a niente E' più utile a Chopper Non mi deludere Anami Non mi deludere Ti prego La girl Non sta mandando bene Sta battaglia Un nemico potente Ho capito che un nemico potente Ma a un certo punto però Facciamo entrare il trio Va Facciamo entrare il Sanji Mi spiace Nami Mi spiace per tutto Però Hai fatto il tuo dovere In questo episodio Bravissima Complimenti Ma lasciamo lo spazio Alle cose serie Insomma Non troppo serie Anche tu Robin Mi dispiace Forte Bellissima Quello che vuoi Al momento Forse un healer È meglio Vabbè Chopper Adesso non c'è niente da curare Fai il tuo Ah 34 Fa più danni Nami e Robin Ok A botta di colpi normali Lo stiamo buttando giù Ragazzi In totale Relax Tranquillità Sanji non lo uccide Speriamo di sì però Dai Non lo uccide Peccato È morto da solo Ragazzi C'è Ci andiamo qua Ah non è morto da solo Almeno Almeno un po' di gloria Vai pistol Non sprechiamo punti Ok Con non poche difficoltà Più che altro Ci abbiamo messo Parecchio tempo Come prima Il maestro Perché ormai tutti Si chiamano il maestro Non c'è Sì Ok, recuperate le scorte E' il posto dove volevo andare io praticamente Sì Sì, ho capito Sì 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 Qua 45.000 Stasizza Nami Trova Trova Cerca Signora Pianta Non ci colpisca Oh Franky Fai il ponte Ah Ho capito uso Come andiamo Una Cinque secco Fammi pigliare i soldi Santa miseria Sì 90.000 Gesù Cos'è quella roba? Non lo so se è adorabile Chopper sinceramente E' una falla dell'animus che cos'è Addio Per sempre Orsopper e questo momento è stato creato, e questo momento è stato creato un luogo di memoria, come questo memoria. Quindi, il risultato che il luogo di che era il luogo di Histaria? Si. Noi, Riven! Il risultato che il luogo di Usopp? Non, probabilmente. Ma che non si è venuto a riuscire con un luogo di ricorda, non è stato un luogo. Vuoi andare sul serio? Non so cosa ti tenderai di stedia Potrete restare bloccati al suo interno E che fai? Lasci la uso? Sì, però Sì, però Sono entrati solo Zoro e Chopper mi sa Quindi dobbiamo fare una secondaria con Zoro, Chopper e Usopp adesso Eccoshe Eccoshe Ah già C'è un piccolo problema per Zoro No no assolutamente C'è un piccolo problema Secondaria Ah delle piantine così Sta combattendo guardalo Che grande combattente Vai il goat Ah peccato Se lo uccideva Potevamo passare direttamente a uso Ah no c'è Zoro contro i quattro Perfetto È rimasto con gli HP di prima Chopper Poraccio Spazio di via Zoro Sono a velocità Non l'avrebbe fatto Mica sono quattro loro Avvelenato Curiamo Zoro va Che se muore Zoro Mi sa che Non riusciamo a fare niente Non siamo messi benissimo Per niente Per niente Cuore a Zoro subito Mi sa che muore comunque forse sai Tre attacchi Tre attacchi Non so se li regge Oh gli arretti Eh non ha più attacchi però Non like Non è molto bella questa cosa Per niente Cambia d'aria Siamo un po' nella cacchina Leggermente nella cacchina No fa meno danni a Chopper Meno male Meno male Meno male Chopper uccidi qualcuno Ti prego Ma siamo a vista brutta Dai che ce ne facciamo Ce l'abbiamo fatta Perfetto Un miracolo è successo Let's see Sarà lui la chiave 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 Il resto Sarà lui Ma che cosa Ah ok forse dobbiamo fare la missione su Sì Ah! Ok allora Io direi di finire questa missione ragazzi Di chiudere l'episodio Anche perchè sta già durando parecchio Quindi vediamo un po' Di trovare queste erbe Sono queste le piante? No sono le erbe queste Addio bambino Erano secoli ragazzi secoli Noi Vai Vai Facciamo il culo a ste Maledetti qua Vita stiamo messi non male Di più Ma ne sono neanche accorto Dovevo curare prima C'è un bel po' di vita Il bersaglio mancato Cretino Chopper ha cappellia Ma non ha Più punti Vai Su questo Bello Chopper Bellissimo Voglio dire di fare un attacco normale Inizialmente Perchè Perchè voi facciamo un attacco No Sono paralizzato No Non colpite Usop Non colpite il cieco Vediamo se muore questo Morto uno Usop Usop Tacco ad aria Vai Dai Usop Uccidi qualcuno Ti prego Azzurro Le leviamo sta paralisi A quanto pare no Uh Uh Muori Nel gioco ovviamente Tutti stanchi Tranne Azzurro Ma scusa Ma scusa L'abbiamo sconfitto Non dovrebbe Essere sconfitto Nel gioco Grazie a tutti Mi sa che è lo stesso bandito che abbiamo sconfitto nel mondo reale, che nemmeno il mondo reale quello Esatto, il maestro È il passato questo Ah, è tipo una specie di cucciolo Sì, il legame c'è, è la stessa persona Ok Ok, zoccolo, bisturi, caccia da tigre Mossa di legame appresa Raga, raga Gli attacchi di gruppo, ragazzi Sì Sì Speriamo che c'è un'animazione figa Ce l'hanno, ragazzi Ce l'hanno Un'animazione unica Non ci posso credere Che figata, ragazzi Che bello, che bello Ok, c'è la carica del legame Ma no, ragazzi, io amo ste cose Non ce la faccio Non ce la faccio Le adoro, le adoro Curiamo Chopper, però Potremmo curare anche Zoro, in realtà Mazza Fa più danni, questo Più giovane Allora, allora, allora Abbiamo il legame solo con Usopp E lo vorrei solo, lo vorrei solo provare C'è un'animazione nuova Va bene Non è niente di speciale Ammazza Chopperinio Sta morendo Chopperinio Prenditi la medicina Non morire Eccolo Ha aumentato Ah, quindi quando aiutiamo qualcuno Perfetto Quindi gli oggetti è meglio utilizzarli Un personaggio che cura un altro E non un personaggio che cura se stesso Molto interessante Molto interessante Super interessante Super bello Super carino Che bello Fantastic Incredible Facciamo questo attacco E poi Rifacciamo il legame Vai Dai ragazzi Che figata Spero ne abbiano messi assai Raga Sono 9 membri Della ciurma Cioè Però ce ne siano davvero tanti Dekon Strutto Spero Spero Sando la otocage no sessi da Oi Sanova Ma da e a l'argo Uro se che da zai Bosa Da i gioca Ui Arigato o nini chan tati Kha chan Daiji ni si te arro Ui Ok, abbiamo risolto il ricordo C'è un po' che c'è un po' che c'è? Grazie a tutti Ok Fatta la missione Ragazzi ogni volta che la troviamo sulla mappa Questa qua la andiamo a fare subito Perché ci sblocca attacchi legame Obbligatori da prendere tutti Bene Space Gamers Io chiudo qui l'episodio Episodio un pochettino secondario Ma secondo me siamo andati a chiudere Tutte quelle cose Secondarie che ci sono nel gioco Oltre vabbè al fatto Di aver perso le scorte che Possiamo chiamare una lunga brodo Però comunque ci sta Ci sta nella storia Abbiamo fatto le missioni legame Che se troviamo sulla mappa raga Istantanee le facciamo subito Perché ci sbloccano nuovi attacchi Abbiamo anche Potenziato abbastanza di personaggi Cose secondarie Ma molto utili Io vi saluto e vi do appuntamento Ad un prossimo video No 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 Grazie a tutti.